È vero che c'è stata una lite fra voi due e tu gli hai detto a lei quella è la porta? E meno male che non so sentite le brutte parole che ho detto a lui. Io lì ho pensato, non è vero. Ma era tutto bellissimo, allora ti spiego. Quella settimana avremmo dovuto fare il freestyle, che è un ballo molto...passionale. Allora, come tutte le coppie vere, no? Tu con tuo marito quando litighi, poi che succede? Che c'è molta più passione, no? E insomma, una volta... Abbiamo un'età noi, capisci? Mi arrendo, alzo le mani. È che lui c'è 32 anni, c'è ancora quella visione lì, capito? Eh, a settante è un po' diversa la storia, magari. Eh, zoccola! No, puttanella! Pubblicità! Ma che cazzo succede questo?